All'inizio ero scettico, poi ho capito che online tante cose sono più facili. Posso far vedere a Clara quello che vedo io, comprare le scarpe senza andare in centro. Ho scoperto che posso anche risparmiare sulla polizza auto con facile.it. Ho confrontato diverse assicurazioni e in un clic ho trovato la migliore per me. E ho risparmiato quasi 500 euro. L'ho fatto online, ma se dovesse servirmi assistenza posso sempre andare in negozio. Facile.it, facile.it, facile.it. Risparmiare è facile.